è venerdì sera e mara cucina per gli amici si mangia indovinate che cosa ha cucinato mara come al solito lasagne venerdì sera se balla ma soprattutto se magna guardate dai che sto cucinando che si raffredda amore ma cosa hai in testa? è la cosa di disneyland amore che cosa si mangia? allora c'è la lasagna c'è la melanzana e la parmigiana sto a fare le cottolette le patatine l'insalata per chi è a dieta io ho portato un profiterol può andare bene ecco va bene quindi si mangia ma è l'inizio del weekend che facciamo fino a domenica? domenica io lavoro tu fai cazzo come sempre tieni amore e ride adesso te lo metto a te sei una gran figa che stronzo che sei dai cazzo lasagne, codoletta e anche la parmigiana e per finire un bel e buono profiterol forno la parma Grazie.